Aho, che te va mangiare? Aho, bello! Ho scoppiato i ragazzi e papà non poteva farmi mangiare. Vabbè, ce l'ho perso io. Tra l'altra volta al centro estivo il bambino deve voler regalare fiori e tu gli hai chiesto da mangiare. Io ho unito le tue cose. Tiè, mazzo dei fiori da zucca. DAIE! Iniziamo subito a mettere l'olio a friggere. Adesso ripieno. Rigottino. Basilico spezzettato. Un po' di pepe. Pecorino. Filo d'olio. Oh, ti sei scordato scorso di limone. Brava, questa mi ha portato l'amichetto mio Marco Damalfi. Sac a poche. E adesso passiamo ai fiori di zucca. Via questi cosetti qua. Via il pistillo. Si riempie. Mi raccomando, chiudete bene. E adesso la pastella magica. Farina di riso. Farina 00. Acqua frizzante. E adesso una bella biretta. Adesso, prima di impiegare la gratta fammela mangiare. Ma no, ce va dentro. Pone la pastella. Scoliamo. Oh! Ah Rupert, che c'è stammi via là? Oh, ehi Larry, ma che fa te? Oh, ma l'hai lasciato qualcosa? Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta. Ahahahah.